In Canada per far conoscere le realtà turistiche del Salento, una iniziativa della Camera di Commercio di Lecce. A Montreal si sono ritrovati una quarantina di operatori del settore, in servizio di Marcello Favale. Nonostante le vicissitudini che vive il Nord America in questo momento, quel mercato continua ad essere punto di riferimento per i prodotti salentini. La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito del programma comunitario Interreg 2, ha organizzato nuovamente in Canada, questa volta a Montreal, dopo Toronto, una manifestazione espositiva e promozionale che ha visto una trentina di operatori dei settori agroalimentare, artigiano e turistico incontrare operatori e importatori canadesi particolarmente attenti ai prodotti salentini che si erano già guadagnati uno spazio commerciale interessante nella precedente iniziativa di Toronto e non solo oltre agli esponenti della comunità italo-canadese che è particolarmente numerosa e diffusa nei centri più importanti di quel paese. I risultati, anche questa volta pur nelle condizioni obiettive di difficoltà dovute alla situazione internazionale, sembrano incoraggianti, almeno secondo Sergio Doria, Presidente della Camera di Commercio di Lecce. Puntiamo molto sullo sviluppo turistico che possono avere i due paesi e infatti abbiamo promosso un incontro con il Ministro del Turismo del Quebec proprio per cercare di utilizzare questo accordo ai fini di una utilizzazione migliore di alcune strutture che noi abbiamo sul territorio. Il settore agroalimentare invece è quello su cui forse abbiamo le maggiori speranze ma anche la necessità di accompagnarli perché la qualità e la bontà dei nostri prodotti è riconosciuta e siamo stati accolti proprio come se fossimo già presenti in questa zona, in questa città. E per le imprese salentine si aprono quindi nuove prospettive. Diversi sono i contatti con importatori che guardano con attenzione a quello che è il prodotto tipico del nostro Salento e soprattutto la qualità quella che ci sta portando ad ottenere dei risultati in termini non solo di contatti ma anche in termini, ci auguriamo, di vendita e futura. Grazie. Grazie. Grazie.